E la nuova mobilitazione CTAV di sabato rimette in moto gli schieramenti politici in attesa di sapere quale sarà l'esito definitivo dell'analisi costi-benefici e tra favorevoli e contrari nasce il partito di chi chiede una nuova revisione dell'opera. Vanni Caratto. Consultazione popolare, revisione del progetto, linea dura. Sull'alta velocità Torino-Lione dopo la nuova mobilitazione di sabato dei CTAV si moltiplicano le posizioni nei due schieramenti di governo. Se il candidato alla Regione per i 5 Stelle Giorgio Bertola assicura che un no definitivo all'analisi costi-benefici dovrebbe comportare automaticamente lo spostamento dei fondi su altre opere, il capogruppo al Senato del suo stesso partito Stefano Patuanelli apre un possibile referendum sull'opera. Sull'altro fronte di governo, quello della Lega, favorevole alla TAV, è lo stesso Vice Premier Salvini a dettare la linea. Sì a consultazioni popolari ma anche apertura ad una nuova revisione del progetto. Dalla Camera di Commercio di Torino l'invito alla politica ad assumersi la responsabilità di una scelta. L'idea è di sprendere circa 150-200 milioni, perché questo è il costo del referendum, per far sì che i parlamentari che sono pagati per decidere non decidono e passino la palla al cittadino. Trovo che francamente sia totalmente incoerente, sia uno spreco di risorse che non trovo giusto. E il clima torna a surriscaldarsi in Val di Susa. Non è ancora chiaro chi abbia messo chiodi davanti al cancello della casa del sindaco di Chiomonte Silvano Livier, favorevole all'opera, il giorno che doveva andare a manifestare a Torino. Intanto in Senato a Roma Mauro Laus del PD ha depositato oggi una mozione che impegna il governo a procedere in tempi brevi alla prosecuzione dei lavori sulla Torino-Lione.